Ciao ragazzi, sono sempre io, siamo The Magician. Oggi finalmente mi sono arrivati un po' di TCBM, me ne sono arrivati, no uno me ne è già arrivato, uno più una raccomandata. Comunque voglio dire che ne sto aspettando sei, il primo addirittura dall'otto luglio, e il mio postino passa un giorno sì e tre no, tipo. Quindi non ho la più palesea se o siano andati perse, o se siano in laborazione, se siano fermi da qualche parte, non lo so. In particolare mi scuso con Beyblade Drago e Pina Capaldi, che sono i due più vecchi, però veramente non ho ancora ricevuto niente. Quindi non so se mi arriveranno o cosa succederà. Allora, questo è, come vedete, Duskushani, in perfette condizioni in italiano, che mi è stato scambiato da Rosario Edge, e lo ringrazio molto. Mi dispiace se non ho tenuto, cioè se non ho qui i bigliettini, e non mi ricordo anche se alcuni ho inviato dell'extra, ma lo ringrazio, e voglio dire a questi utenti che provvedo domani a spedire di loro. E quindi grazie tanto a Rosario Edge. La seconda carta è questo Chio Grex in inglese, scambiata con Dave Fock, che è al mare in questo momento, quindi non vedrà sicuramente questo video, comunque lo ringrazio, anche lui, perché la carta è perfetta. E infine mi è arrivata finalmente la famosa raccomandata Yugi Master Collection, che adesso è diventato, si è unito all'utente tutto carte, che mi ha inviato questo bellissimo New Gold Star, in perfette condizioni in inglese, che naturalmente non scambio, che si fa raggiungere la mia collezione di Gold Star. Come avevo detto qualche settimana fa, io ho intenzione di far vedere il mio trade, il problema è che se non mi arrivano questi CBM, molte delle carte che non sono più da scambio, ridimentano da scambio, insomma, e quelle che mi devono arrivare non mi arrivano, adesso non lo so, è una situazione un po' di stallo. Comunque così, queste tre sono arrivate, sono un po' preoccupato, semplicemente perché Rosario Egger l'ho spedito dopo, tre o quattro utenti, però mi è arrivata prima, però viene da più vicino, gli altri utenti vengono tutti da Roma, o sotto di Roma, e non mi è ancora arrivata niente. Non so che dire ragazzi, sono un po' così, un po' titubante, comunque appena avrò nominità, vi avvertirò. E continuate a seguirmi, grazie a tutti di guardare questi video, e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!